Siamo una startup innovativa nata a dicembre del 2020 e il nostro obiettivo è quello di democratizzare l'accesso all'intelligenza artificiale alle aziende di ogni dimensione del settore e poiché spesso l'intelligenza artificiale appannaggio di poche aziende strutturate quindi solo grandi aziende hanno a livello economico e a livello di personale specializzato può permettersi di introdurre l'intelligenza artificiale all'interno dei propri processi aziendali grazie a Klondike è possibile anche per le piccole e medie imprese implementare l'intelligenza artificiale all'interno dei processi aziendali in un modo facile, veloce e sostenibile